Assessore parliamo di affitti in nero, è scoppiata la bufera ma il Comune ha risposto che è tutto censito. Sì, comunque noi abbiamo dei numeri che erano diversi da quelli che erano stati messi nella ricerca perché parlavano di dati regionali, noi abbiamo i dati comunali perché siamo noi che riceviamo poi le varie denunce e sicuramente c'è dell'evasione ma non penso che sia nei numeri in cui erano annunciati in questa ricerca. Venezia sicuramente è il territorio, è molto difficile da censire, da controllare, so che le risorse però scarseggiano. Che piano d'azione avete in mente? Di incrementare il personale all'ufficio Tributi perché controlli i siti e veda se queste persone hanno fatto anche la denuncia. di incrementare la squadra e la sezione tributaria che abbiamo già in modo tale da essere più incisivi sui territori. Una lotta che comunque tocca anche l'abusivismo commerciale, so che il Comune è impegnato anche su questo fronte. Stiamo facendo degli interventi che sono sotto gli occhi di tutti da parte dei vigili urbani che stanno attuando uno sforzo enorme per cercare di essere più incisivi possibili. Si sa che questo è un problema di tante altre città ma stiamo cercando di risolverlo al meglio anche a Venezia.